Camera, privi! Sì, pronto, ciao, bello! Sì, ciao, guarda, io stasera non faccio niente, non te lo do, nonno, stasera... Scusa, scusa, ti richiamo dopo, ciao, 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 ciao... Lorenzo, che cosa ti sta succedendo? Ma niente, tesoro, mi sto adattando! Lorenzo, a che cosa ti stai adattando? Guarda come ti sei ridotto, sei proprio una gay passiva! Insomma, Lorenzo, i gay di oggi hanno tutt'altro stile, sono più maci, il baffetto, il pizzetto, la barbetta... Dov'è la barbetta? Lorenzo, che delusione! Che delusione, sarà perché ti amo, è un'emozione... Oh mio Dio, sono rimasto l'unico gay macio sulla faccia della terra!